Francesco buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori siete collegati con lo stadio Bucci di Russi, quasi un gioco di parole. La speranza è che su questo terreno verde, su questa porta il Modena possa gonfiare la rete nella gara decima giornata del campionato di Serie D, il turno infrasettimanale contro il Classe, ultima in graduatoria, ma formazione da non sottovalutare perché proprio su questo terreno ha ottenuto i soli sette punti che ci sono in graduatoria per i romagnoli, battendo il Fanfulla e il Fiorenzuola, la squadra che non più di quattro giorni fa è stata in grado di infliggere la prima sconfitta stagionale alla formazione canarina. Tutti ricordano il pesante 4-1 subito al Braglia degli uomini di Apolloni che oggi vogliono assolutamente rifarsi, vogliono ripartire anche perché la classifica con i risultati di domenica ha aspettato proprio i canarini che hanno ancora sei punti di vantaggio sugli inseguitori, quindi una partita da non sottovalutare soprattutto per lo stato del terreno di gioco, uno stato allentato con tante gibbosità, le buche, insomma le incognite di una partita contro una squadra, il Classe che non vuole regalare assolutamente niente al Modena, una sorta di Davide contro Golia con il Modena che è molto più forte, il Modena con tantissime novità quest'oggi nella formazione, ha fatto turnover giustamente, Gigi Apolloni per i tre impegni riavvicinati, ma un Modena che ancora una volta sarà sostenuta da tanti tifosi che l'hanno seguita fin qui in Romagna, che vuole ripartire immediatamente nel suo discorso per arrivare quanto prima in vista del traguardo. Per il momento è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo dallo stadio qui di Russi per commentare in diretta Classe Modena.